Dal mio buongiorno e benvenuto a dottore Emanuele Angelucci, direttore delle matologie e terapie cellulari del Policlinico San Martino di Genova, benvenuto. Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Parliamo degli ottimi risultati, oserei dire, del Policlinico per quanto riguarda il trapianto di midollo osseo. San Martino, primo in Italia, in questo caso. Ci racconti che cosa sta accadendo e come si sta muovendo il Policlinico? Primo in Italia vuol dire che sono stati appena pubblicati i dati sui trapianti effettuati nel 2023 e San Martino come numero, primo centro in Italia come numero di trapianti effettuati. Questo è un risultato importante. Ovviamente i numeri non sono tutto, però i numeri sono segno di fiducia da parte dei pazienti e segno di esperienza che viene acquisita ogni giorno nel combattere le malattie ematologiche. Il San Martino si sta muovendo, implementando sempre più l'evoluzione, seguendo l'evoluzione nel campo di terapia cellulare, che è un'evoluzione veramente impressionante per capacità e possibilità di risoluzione, ma anche per complessità tecnologica e professionale. Ecco, che cosa significa? Lo spieghiamo ai nostri telespettatori in modo semplice. Quando è necessario affrontare un trapianto di questo tipo? Ci sono delle indicazioni molto precise dalla letteratura di patologie ematologiche maligne, tipo lecemia acute, linfomi, mielome, ma anche di patologie non maligne, patologie congenite come la telassemia, patologie immunologiche come la plasemia midollare. E abbiamo un programma, per esempio, che guida in Italia di trapianto autologo in patologie immunologiche come la sclerosi multipla, in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienza dell'ospedale, che è una storia famosa, una delle prime in Italia. Dottor Angelucci, ovviamente il trapianto significa avere a disposizione un donatore. Ci sono diverse tipologie di donatore, così? Assolutamente sì. Il donatore di cellule staminali emapoglietiche c'è da precisare prima di tutto che non è un donatore vivente, che sta bene, che non subisce nessuna mutilazione da parte della donazione, che è un atto spontaneo e gratuito e di grande disinteresse. Il donatore può essere un familiare compatibile, ma anche un donatore da registro e ci sono anche delle possibilità, che adesso effettivamente sono poche, di usare il sangue del cordone umbilicale come fonte di cellule staminali. Esiste poi il trapianto autologo, che è una tecnica diversa di intensificazione di quelle malattie. Non deve essere dimenticata l'evoluzione degli ultimi anni, per questo adesso non parliamo più di un reparto di trapianto, ma di un reparto di terapia cellulare, in cui questa evoluzione consiste nel fatto che si usano le cellule come dei farmaci per coprire specifiche malattie. Quali sono, dottore, le percentuali di riuscita di queste tipologie di interventi? Sono molto variabili dipendendo dalla patologia, dal suo stato. Ovviamente, per esempio, una leucemia che in fase avanzata è molto più difficile da guarire che una leucemia all'inizio della sua storia clinica, dall'età del paziente e dalle sue condizioni. Possiamo dire che oggi un centro di una certa esperienza ha un rischio di complicanze letali da trapianto, che è una procedura ovviamente complessa, che sta sotto il 10%. Ovviamente, poi, ci sono tutti i rischi connessi al ritorno della malattia, in cui non si può dare un'unica percentuale, perché è molto variabile a seconda del tipo di patologia del paziente. Nella sua lunga esperienza, dottor Angelucci, lei, penso, ha notato che sono cresciuti comunque i casi, i casi in cui è necessario intervenire, oppure restano sempre in un range, in una media sempre uguale? Alcune indicazioni sono tramontate perché ci sono armi mediche, farmacologiche molto efficaci. Quello che ha aumentato molto è la nostra capacità di affrontare casi complessi. Non sono aumentate le malattie, ma è aumentata molto la nostra capacità di affrontare situazioni complesse. Le faccio un esempio drammatico. Quando io ho iniziato questo mestiere, purtroppo tanti anni fa, negli anni 80, consideravamo elegibile soltanto un paziente fino ai 35 anni. Oggi arriviamo a 70. Quindi lei capisce che il numero dei pazienti che possono usufruire di queste possibilità di cura, perché queste sono tecniche che tendono a guarire, non a mantenere, tendono a guarire, i pazienti che possono beneficiare di questo approccio sono diventati molto di più. Chiudo, dottor Angelucci, con alcune parole anche rispetto al grande lavoro. Per arrivare a questi risultati, come quelli ottenuti dal Policlinico San Martino, bisogna lavorare in team, in squadra. Anche lei ha scritto i suoi ringraziamenti a tutte le professionalità che insieme contribuiscono a questi risultati. Assolutamente, perché è un lavoro che comporta multidisciplinarità professionale, ma anche organizzativa, cioè che coinvolge medici, professionisti, consulenti, il centro trasfusionale, i cardiologi, gli intensivisti, i rinimatori, i neurologi. Tutti contribuiscono alla gestione di questi pazienti. È successo, ma contribuisce anche all'aspetto organizzativo della geologistica, dell'ospedale, i farmaci, le strutture, i presidi devono esserci al momento giusto. Quindi è un coinvolgimento di tutti gli apparati della farmacia, del provveditorato e ovviamente della direzione sanitaria, della direzione amministrativa e della direzione generale, che sono fondamentali. Ma mi lasci dire l'ultima cosa. Io, ripeto, i numeri non sono tutti, ma sono segni di esperienze, di fiducia della popolazione. Io però posso dire, senza tema di smentita, che ho l'onore di coordinare il gruppo medico più bravo che c'è in Italia, me lo lasci dire. Non è merito mio, è merito di chi mi ha preceduto. Ho l'onore di coordinare il gruppo medico più bravo, più esperto, più dedicato alla cura dei pazienti che c'è in Italia. Questa è la continuazione di una lunga storia iniziata negli anni 70 con Alberto Marmond, continuata con Angelo Michele Carella e Andrea Bacigalupo, che io ho l'onore e l'onere di cercare di portare avanti e adeguare ai nuovi tempi e alle nuove metodiche che si stanno evolvendo giorno per giorno. E allora facciamo anche noi da Primo Canale i complimenti anche attraverso i nostri telespettatori. Insomma, a tutta la squadra e a lei per il vostro lavoro così importante. Io ringrazio il dottore Emanuele Angelucci, direttore dell'ematologia delle terapie cellulari del Policlinico San Martino di Genova. Complimenti ancora per i risultati raggiunti. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.